Non risultavamo per la vittoria, siamo contenti, penso che ci romeditavamo perché siamo sempre stati uniti, nonostante tutto quello che è successo, tutte le difficoltà, le sconfitte, siamo sempre stati uniti e penso che è il giusto premio, anche se ancora non abbiamo fatto niente, però è il giusto premio per la squadra. Perché penso che comunque questa partita, la partita della svolta, perché comunque visto che il Pesaro comunque è una squadra che si deve salvare come noi, quindi era uno scontro diretto, quindi oggi toccava vincere a tutti i costi, quindi sapevamo anche in settimane che comunque questa partita è sicuramente quella più importante della stagione per adesso, cioè era solo la quinta, però quella più importante, perché tanto la vittoria di oggi, veramente non so come spiegarla, però veramente non dico come vince un campionato, però ci ha dato proprio una grossa soddisfazione diciamo. Che bello, se avete vinto una partita. Senti, quindi hai anche cambiato parte, hai trovato ragazzi, perché se hai trovato ora c'era ogni volta il Cameruccio, insomma, in particolare, con le nuove. Mi sono trovato molto bene, perché comunque è uno che magari tiene un po' più la palla, quindi mi permette di avere un po' più spazio per attaccare la profondità e tutto, quindi sicuramente mi sono trovato bene. Anche il Cameruccio oggi ha fatto una grandissima partita, quindi una nota positiva per la squadra. Ti senti anche di dire qualcosa, insomma, ti ho fatto riconoscendo meglio, molti di questi ragazzi da punta, che parte sono rimasti fuori, che parte sono entrati, insomma, questa situazione, no? Se ti senti di dire qualcosa, anche un po' di investimento. A ringraziare, perché comunque oggi ci sono stati, nonostante tutto, sono venuti a incitarci fino alla fine, quindi a ringraziare, perché comunque noi ci abbiamo bisogno, che la curva per noi è importante, che comunque ti dà sempre questa carica in più, soprattutto in casa, quindi ringraziare. Noi comunque daremo sempre il massimo, come abbiamo sempre fatto fino adesso, sperando che i risultati siano piano piano arrivati.